come sta andando con la ritorno in zona rossa come sta andando sta andando male peggioriamo sempre una situazione tragica come la possiamo definire più di così quando in un anno si perdono otto mesi di lavoro non ci sono chiaro più più parole la presenza dello stato come la vivete la presenza dello stato quale quale stato niente con i ristori così come com'è andata casse integrazioni chiediamolo i ragazzi quale casse integrazioni quali ristori non è arrivato niente si qualcosa qualcosa una parte una parte ma non è quello che ci fa stare in piedi però probabilmente il problema più grosso in italia che c'è oggi sarà quello di fare sanremo sanremo forse più importante di pensare a purtroppo parlano 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 di tante cose però io un attimo fa leggevo non so se è vera la notizia sul telefono che un a novara si è suicidato un ragazzo di un'agenzia di viaggi non so se è vero perché l'abbiamo sentita adesso il bar nei giorni scorsi era uscita un'altra notizia di un altro ragazzo di 41 anni un imprenditore che si è suicidato di questi problemi qua non ne parla più non ne parla nessuno e forse tabù forse tabù non non lo so sarebbe ora che lo stato se c'è se c'è se non pensano sempre solo ai suoi stipendi e i suoi ai suoi affari sarebbe ora che ci che si si presenti